salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video sono thunder official allora vi voglio fare un annuncio che allora stasera andremo live per un po di tempo verso le sei una mezzaretta così fino sei e mezza un quattro anni sette e vivono dire che anche per l'anno nuovo ci faremo saluti tutti quanti per un buon 2019 e tutto il resto vi farò anche qualche video magari a riguardo per l'anno nuovo per fargli auguri e tutto quanto gli ultimi 5 minuti del 2018 registrano questo video lo comprimerò più che posso quindi non vedrete in risoluzione 360p o 480p quindi si dovrebbe vedere bene e niente qui ho messo anche il countdown come vedete ora non lo sta scorrendo però vabbè dettagli per un buon 2019 passate questi ultimi momenti mi raccomando in famiglia passatevi per bene e noi ci vediamo stasera alle 6 in live con guardate se lo trovo insomma no ora non è qui con questo signore qui con fifa 19 ci vedremo live una mezzaretta partitina con milan eccetera eccetera poi vediamo e poi gli ultimi 5 minuti ci si fanno gli auguri saluti tutto tutto questo noi ci becchiamo stasera mi raccomando ore 6 ore 6 massimo sei e mezza o un qualsiasi 7 uguale detto questo è tutto noi ci vediamo stasera passate un buon 2018 per finire l'anno e iniziamo un 2019 dimenio ciao